La giunta regionale si sarebbe sostituita in modo arbitrario alla ASL di Chieti, avvocando a sé le prerogative dell'ente, peraltro prelevando 30 milioni di euro dal bilancio regionale per l'avvio del bando del project financing del nuovo ospedale di Chieti, in maniera non corretta. Sono le accuse pesanti mosse dal Movimento 5 Stelle Abruzzo e dalla consigliera regionale Sara Marcozzi, al presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e all'assessore alla sanità e al bilancio Silvio Paolucci. Il tutto è racchiuso in un esposto che è stato inottrato alla Corte dei Conti e all'autorità nazionale anticorruzione. Secondo i pentastellati c'è stata una distrazione dei fondi regionali con conseguente danno erariale, oltre ad una procedura praticamente illegittima per il project financing. Quello che noi chiediamo oggi ad ANAC e Corte dei Conti è verificare la legittimità di questa sostituzione e verificare se sia stato compiuto un danno erariale nei confronti di Regione Abruzzo a causa della delibera che ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di questo ospedale in project financing. Noi rimiamo contro gli sprechi e gli sperperi di denaro pubblico. L'Asla dei fondi propri esiste un fondo nazionale per l'edilizia sanitaria. Quello che abbiamo sempre chiesto al presidente D'Alfonso è di magari adoperarsi per trovare questi fondi ma non regalare un progetto di finanza a privati che per carità legittimamente fanno il loro, ma la pubblica amministrazione deve fare il suo e deve preservare le casse pubbliche, gli interessi dei cittadini e anche la qualità dei servizi.